Ciao raga, bentornati oggi sul mio canale YouTube, secondo appuntamento della giornata, infatti vi porto un altro video di informazione, infatti è uscito il nuovo Season Pass su Ultimate Team, quindi ce lo andiamo un attimino a spulciare, andiamo a vedere quelle che sono le carte che hanno inserito, che sicuramente vi premono, e andiamo a vedere quali conviene andare a riscattare o meno. Quindi, cambio di scena classico, lo sapete, eccoci qua che ci troviamo subito sulla schermata, e abbiamo il pass della stagione 2. Abbiamo come primo livello un giocatore raro, valutazione, 75 superiore non scambiabile, abbiamo poi un bonus crediti di 500 crediti per 5 partite, un pacco oro premium non scambiabile, i classici stemmi tifo, lasciami in pace, con questi rastrelli epici, che mi ricordano il buon Dugnolf quando va a spalare le foglie, il gufo geometrico, beh, che dire, questo per appestare i vostri avversari, e poi abbiamo il mezzorso, che a me sembra un cervo, però chiamiamolo mezzorso, e va bene così. Poi abbiamo un giocatore raro, valutazione, 75 superiore, again, lo stemma del gufo geometrico, del lasciami in pace, del mezzorso cornuto, il cervorso lo chiameremo. Abbiamo poi il pacchetto romaxi, non scambiabile. Abbiamo poi melassa il bradipo, stemma tifo, cittadella deserta ed evocatore. A me melassa il bradipo, fomenta, ve lo sto dicendo. Pacchetto giocatori oro, non scambiabile, un bel pallone cuscino, che più che cuscino mi sembra il divano di mia nonna. Poi abbiamo pedone degli scacchi, melassa il bradipo, come stemmi, non sto manco a dire quale andrò a sbloccare. Evocatore cittadella e melassa di campeggio autunnale, geniale. Giocatore raro, valutazione, 75 superiore, non scambiabile. Pacchetto giocatori oro prime, piccolo, non scambiabile. E a livello 15 arriviamo ai giocatori premio. Il primo è Andresteglio, che è del Benevento, a quanto vedo. Un giocatore di 1,81 m, alto alto, cc, 3-3. Per quanto riguarda le statistiche, questo è veramente veloce. Quindi 89 di accelerazione e 88 di velocità scatto. Statistiche di tiro, un po' a me, ottimi passaggi, sia il corto che il lungo. Ottima anche l'agilità e la reattività, un po' meno l'equilibrio. Peccato per la freddezza, 74, aggressività, 75. Insomma, tutte quante le statistiche un po' così e così, insomma. Non è che questo campione. Poi, 1,81 m avevamo già visto in precedenza, quindi sicuramente agile. Ma, insomma, un po' next a quanto la vedo io. Abbiamo poi i Cinchinchuan, 4-4, 1,79 m, alla destra, ma. 96 di accelerazione, 86 di velocità scatto, 85 di finalizzazione, con 71 di potenza tiro, un po', un po', un po'. 81 di passaggio corto ci sta, il 68 di lungo puzza un po', 96 di agilità, 97 di equilibrio, tanta roba. Controlla palla, 87, la freddezza, 74. Insomma, 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 insomma. Ultima carta, invece, questo AIDU, 82 di velocità. Già vedo così, 1,80 m, normale, alto. 79 di accelerazione, quindi un concede, magari, qualcosina nel breve per poi recuperare sullo scatto. Buono il passaggio corto, una pippa è lungo, buona l'agilità, 75, ottime le statistiche difensive, ottima l'aggressività. Ma, se io vi devo dire la mia, considerando che questo comunque è di... è di liga, potrebbe essere sfizioso. Sicuramente questo qua, pure se ve lo andate a sbloccare, da Super Sub non ci vale la pena, vista la freddezza. Cioè, mettete un Super Sub con 74 di freddezza, cioè, vi volete proprio del male. E Stoteio, insomma, direi un po' next. Il più valido, mi sembra, mi sembra questo, che potrebbe anche fare il titolare, secondo me. Poi abbiamo, bra tipo campeggio autunno, cittadella deserta ed evocatore tifo. Pacchetto orarino scambiabile, pacchetto orarino scambiabile. Ma questo è un pallone? No, regà. Immaginatevi in WL quelli che giocano col pallone della ciambella. Questi si meritano le testate. Vabbè. Pacchetto giocatori zinco orarino scambiabile, raccolto western and hardboiled stemmi. Bellissimo, tra l'altro, western, vedeva, stante, cavolo. Credo che lo sbloccherò. Pacchetto mega non scambiabile, giocatori euro prime non scambiabile, hardboiled, western. Qua è più figa questa, invece. Prime o Bundesliga prime o liga prime, questi per prepararsi ai toti, secondo me. Stagione autunnale tifo, autunno trofeo in campo. E passiamo a quelli che sono i giocatori invece un po' più golosi. Abbiamo il buon Iago Aspas, 1.76 alto alto, 3 di abilità, 4 di skill, quindi già il 3 di abilità un pochino mi puzza. 81 di accelerazione e 89 di velocità. Buona la finalizzazione, un po' meno la potenza tiro. Buono il passaggio corto, meno il passaggio lungo. Finalmente uno con un po' di freddezza, 92 di agilità, 86 di reattività, con poca forza lo rendono sicuramente agile. Pad alla mano, quindi questo qua direi che non è malvagio. Abbiamo poi il buon Romagnoli, così, 1,88, 2, vabbè, mossa di abilità a piede debole, poco ci importa per un DC. 72 di accelerazione, 76 di velocità scatto. Buono il passaggio corto, discreto e lungo per un DC. Pecca ovviamente nell'agilità, freddezza, 80, buone le statistiche difensive, buona la forza e l'aggressività. Ma questo qua parte già dietro, secondo me, Manolas base, Kulibali base, quindi un po' next. Cartina interessante, Stoke Ita, che già vedevo prima. 1,72, 4-4, alto normale, 82 di accelerazione, 71 velocità scatto. Tiri un po' così, ottimi passaggi sia corto che lungo, ottima la freddezza, buone le stazioni di agilità, equilibrio, reattività, controllo palla, resistenza buona, aggressività 83. Questo qua, secondo me, potrebbe essere anche discreto in un centrocampo di Premier. Diciamo che in una mia preferenza, ovviamente, vi piazzo Kanté, vi piazzo Pogba, vi piazzo De Bruyne. Poi, probabilmente, vi posso piazzare tranquillamente un Sissoko Europa League e poi vi ci vado a piazzare Stoke Ita. Direi che male, male non è. Quindi diciamo che tra le scelte che andrei a fare, io personalmente sono Keita e il buon Aido, se non erro, il difensore, quello della Liga. Esattamente questo qua. E, nada, per questo rapido video di aggiornamento, raga, è tutto. Noi ci vediamo, come al solito, ogni giorno in live sulla piattaforma Viola. Trovate tutte le info in descrizione. Vi auguro una buona giornata, ragazzi. Ciao, ciao.